buonasera a tutti allora questa sera il video riguarderà alcune funzioni particolari di affiniti foto in particolare il dodge and burn prima però di passare alla spiegazione devo dirvi che ho avuto dei problemi con la fotocamera soprattutto del mio mac non so perché il programma di acquisizione video va in conflitto con il programma invece di acquisizione di me stesso quindi non ci sarà la mia faccina in basso a sinistra ma ci sarà l'audio e questo è pure meglio in modo tale che non vediate la mia brutta faccia che vi occupa spazio nel desktop per cui io cederei la parola a me stesso per la spiegazione e ci vediamo alla fine del video questa funzione a che cosa serve vediamo per esempio questa foto che è una vecchia foto che ho scattato in val d'orcia che è un posto famoso per le famose dune di terra cosiddette questa funzione serve a scurire alcune parti già scure e a schiarire alcune parti già chiare una cosa serve questo serve a dare maggiore tridimensionalità alla foto come in questo caso qui in quanto per esempio come vedete scurendo ad esempio in questa area questa parte che è un po po scura ma magari le condizioni di luce non l'hanno riprodotto in maniera ancora più evidente e schiarendo questa parte qui sopra si crea un maggior contrasto e quindi la formazione è più e più evidente essendo più evidente questa formazione da maggiore tridimensionalità e maggiore profondità alla foto ora in affiniti foto ci sono diversi metodi per applicare questo e questi effetti io ne conosco tre sicuramente ce ne saranno anche altri per cui cominciamo dal primo da quello un po più semplice perché è una funzione che è già inserita negli strumenti di affiniti in particolare se andiamo qui sulla colonna degli strumenti abbiamo in questa sezione lo strumento pennello scherma e lo strumento pennello brucia che come dice la parola stessa sono due pennelli ad esempio se io seleziono il pennello brucia qui posso chiaramente regolare la dimensione del pennello l'opacità il flusso la durezza eccetera e nel momento in cui io lo vado ad applicare lui mi scurisce la parte dove viene applicato questo pennello chiaramente posso operare su questi su queste opzioni per rendere effetto più o meno evidente vedete qui io schiarisco qui eccetera questo strumento tuttavia non è molto selettivo in quanto applica questo effetto anche alle parti chiare quindi lui fondamentalmente non va a selezionare a capire se la parte chiara e oscura e quindi agisce di conseguenza lui viene applicato semplicemente dove andiamo a dire noi stessa cosa che lo strumento scherma che invece schiarisce le parti delle foto della foto dove io vado ad applicarlo e lo schiarisce sempre della stessa quantità e questo però succede anche nelle parti scure ora uno potrebbe dire ma sì ho capito ma perché cioè qual è il problema il problema è che ad esempio in queste parti qui io dovrei zoomare la foto stare attento a dove vado ad applicare il questo effetto magari scurisco parti che sono un po più chiare quindi la tridimensionalità poi viene compromessa perché non c'è più una linea di demarcazione ben definita e questo è un problema un altro tipo di problema è che mi va a influire sulla luminosità però mi influisce anche sulla tonalità del colore quindi mi cambia un pochettino anche l'effetto dei colori stessi però è uno strumento molto semplice molto speditivo che in determinate situazioni sicuramente è molto comodo un altro metodo che io conosco e che uso a volte è quello di introdurre un nuovo livello pixel vuoto avendo l'accortezza però di selezionare come metodo di diffusione luce soffusa una volta introdotto questo livello pixel vado a selezionarmi lo strumento pennello e il colore bianco in questo caso o qualsiasi colore io voglia applicare su questo livello il colore bianco applicato sulla foto mi va a schiarire le parti della foto che mi interessano stessa cosa selezionando il colore nero mi va a scurire quelle parti della foto che mi interessa scurire questo strumento ha lo stesso problema di quell'altro questo metodo cioè mi va ad applicare l'effetto inverso dove non voglio quindi scurisce le parti chiare e schiarisce le parti scure se non sto attento a dove lo applico è un po più versatile perché intanto posso usare tutti gli strumenti con essi al pennello quindi la gomma lo sfumino se usiamo photoshop e quant'altro in più posso andare ad agire oltre che su questi parametri anche sui metodi di fusione quindi luce intensa luce vivida eccetera eccetera quindi è lo stesso strumento di prima che però mi offre maggiore versatilità il terzo metodo invece che quello che io preferisco è quello di introdurre dei livelli curve che andiamo a vedere adesso quindi seleziono il mio livello di regolazione curve però non uso il metodo rgb uso il metodo lab metodo lab seleziono luminosità che una delle opzioni di questo metodo e come vedete nell'istogramma mi va ad evidenziare la luminosità della foto quindi non è un istogramma sui colori ma è esclusivamente sulla luminosità dei colori stessi ora se io voglio ad esempio scurire i colori scuri vado a mettere dei marcatori quindi delle ancore sulla parte chiara qui ho una buona densità di colori scuri quindi se io voglio scurire ulteriormente magari la parte un po più estrema dei colori scuri vado ad agire in questa maniera come come vedete questo effetto è stato applicato in questo momento su tutta la foto però mi fa capire alla fine lo scurimento che effetto da una volta che ho creato questo livello curve applico una maschera la maschera la vado ad invertire e in questo contesto io non ho applicato nessun effetto in nessuna parte della foto per applicarla dove voglio io seleziono la maschera vado a selezionare il colore bianco con un pennello e vado ad applicare l'effetto dove voglio io ok vedete che qui sta scurendo questa parte sta scurendo quest'altra parte ora l'applicazione però di questo effetto non è uniforme come abbiamo visto prima questo perché perché lo vado applicare solamente in quel range di luminosità di colore che io ho selezionato nel livello curve infatti ad esempio sulle parti chiare non mi dà nessun effetto se io voglio poi invece schiarire le parti chiare introduco un nuovo livello curve sempre lab sempre luminosità e questa volta fisso i colori più scuri e vado ad agire invece quindi ad aumentare in questo caso i colori più chiari va bene ora in questa foto magari i colori chiari sono un po meno evidenti ok però come vedete già nella parte sinistra della foto si sia avuto si sono si sono evidenziate quindi mi fa uno screenshot di come sarà l'effetto al suo massimo anche in questo caso introduco una maschera inverto la maschera e con il pennello sempre bianco perché in questo caso il pennello non applica il colore ma mi dice dove andare ad applicare l'effetto io vado a spennellare sulle parti chiare le parti chiare verranno evidenziate quindi verranno ulteriormente schiarite ma le parti un po più scure non vengono toccate come in questo caso non si toccano le parti scure le parti chiare vengono un pochettino più evidenziate quindi io posso anche diciamo così spennellare senza avere particolari accortezze no perché se io faccio una spennellata di questo genere con gli altri strumenti mi va l'effetto mi va a essere applicato un po ovunque si applica il pennello invece in questo caso qui viene applicato solamente in quel range di luminosità che io ho selezionato nelle regolazioni curve inoltre io posso sempre in un secondo tempo andare a rivedere le mie regolazioni e a cambiarle per magari aumentare l'effetto diminuirlo cambiarlo eccetera e quindi io reputo che questo sia uno strumento particolarmente versatile un metodo più che altro particolarmente versatile che io uso quasi sempre devo dire che il dodge and burn non è una tecnica che a me piaccia molto non mi è capitato di rado di usarla ma questo è un mio problema ecco sicuramente è una tecnica che viene usata da moltissimi da moltissimi fotografi bene stavolta il video è venuto di una lunghezza umana diciamo così comunque spero che vi sia stato utile spero che qualcuno abbia avuto degli spunti per poter sperimentare lui stesso su questo piccolo aspetto del ritocco fotografico se così è vi invito a mettere un mi piace al video se in generale vi piace quello che faccio vi potete iscrivere al mio canale e continuare a seguirmi pertanto per il momento vi saluto vi auguro buona serata e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti